Ben ritrovati a 20 minuti Veneti, l'approfondimento settimanale di Piave TV, oggi con noi il presidente di ATVO, Fabio Turchetto. Allora, presidente, voi come riuscite, una curiosità, voi come riuscite a estendere il vostro servizio anche nelle zone non proprio centrali? Per esempio, le ferrovie considerano alcune zone periferiche non proprio fruttuose. Voi invece investite molto anche su quelle? Allora, noi siamo un'azienda di trasporto pubblico locale, noi siamo rivolte ad un pubblico, il nostro utente, usiamo questo termine utente, non pubblico, che deve essere possibilmente, da qualsiasi luogo del Veneto orientale, ci deve essere la possibilità che questo utente possa essere trasportato da qualche altra parte. E' chiaro che questo ha un costo, nel senso che il trasporto pubblico locale, se non avesse determinati supporti, sarebbe sempre in deficit, perché ci sono alcune linee che chiaramente un privato non farebbe perché non ci sarebbero dei ritorni in ordine finanziario. Noi però abbiamo una funzione sociale, io non posso dimenticarmi che il trasporto pubblico locale è utilizzato dagli studenti, dalle persone, dai pensionati, dalle persone che non guidano, insomma sono le fasce di popolazione, non voglio dire deboli, e comunque certamente non privilegiate. Ecco che allora, anche come dico sempre io, la signora Maria, che deve andare da Santa Maria fino in piazza San Donà, anche se sono due persone in un giorno, io quelle due persone gli devo fare il servizio perché è un loro diritto. La mobilità significa crescita del territorio, io devo fare in modo che la gente possa, nell'ambito del territorio, avere una mobilità che funzioni. E quindi pago anche il conto di qualche linea che magari non è propriamente una linea che è in guadagno, ma che comunque viene compensata da altre linee che sono in guadagno, si tratta di trovare quel giusto equilibrio. Non credo che il privato abbia la voglia di trovare gli equilibri, credo che il privato abbia la voglia solo di tagliare quello che non funziona e di tenere solamente quello che funziona. Credo che invece lo scopo di un'azienda come T-Wars sia ben altro. La qualità del servizio, stiamo parlando di questo effettivamente, è strettamente collegata anche alla qualità del personale. Quanto investite voi nella qualità del personale? Molto. Allora il nostro personale è, innanzitutto devo dire che ogni anno viene fatto il cosiddetto cliente misterioso, è un'agenzia esterna che fa delle interviste e che utilizza anche i mezzi e dà un punteggio. Anche quest'anno noi siamo in crescita. La media di T-Wars deve essere intorno all'87% di gradimento. Quello che poi mi fa anche piacere è che, se andiamo a vedere il sondaggio, come era distribuito dal punto di vista delle persone che hanno risposto, oltre il 40% erano studenti. Voi sapete che lo studente è critico proprio per una sua, giustamente, età. A quell'età devono essere così, non possono essere altrimenti. e avere avuto anche da parte degli studenti un riconoscimento di qualità, per noi è stato molto importante. È chiaro che c'è una formazione di base su tutto questo. Gli autisti vengono regolarmente tenuti, aggiornati, sia dal punto di vista della guida, ma anche dal punto di vista dell'approccio verso l'utenza, che deve essere sempre un approccio estremamente gentile e professionale. Ed è un'attenzione che in Attivo, devo dire grazie anche al direttore che abbiamo, al direttore generale, che non fa scappare nulla, nel senso che pur essendo un'azienda grande, nonostante questo controlliamo, non voglio dire controlliamo, riusciamo ad avere percezioni anche di queste cose. Lei pensi che io ricevo mediamente dalle 5 alle 6 mail da parte di persone che utilizzano i mezzi? Alcune sono estremamente positive, altre invece magari sono mail che mi parlano di un problema. Perché anche l'utente fa la sua parte e io quando vengo a conoscenza del problema poi cerco di risolverlo. Vi faccio un esempio, quando io assieme all'onorevole Forcolin, dico onorevole anche se oggi non è più a Roma, ma all'epoca era onorevole, ci siamo fatti carico di sistemare un errore che c'era nella legge per quanto riguarda l'uso dei telefonini. Abbiamo scoperto che non erano esenti gli autisti di mezzi pubblici, potevano usare il telefonino semplicemente, cioè io nella mia macchina devo usare l'uva voce e nel mezzo pubblico dove ho la responsabilità di 50 persone, ma non solo quello, comunque ho persone, non avevo questo obbligo. Ci siamo fatti carico di modificare la legge, cosa che è avvenuta, in tempo poi brevissimo. E tutto questo nasce da che cosa? Nasce da segnalazioni. Ci sono state una serie di segnalazioni da parte dell'utenza che mi dicevano che c'erano parecchi che utilizzavano il telefono in modo, secondo loro, improprio, non sapendo che la legge non prevedeva sanzioni per loro. Io ho pensato che questo è un errore, le leggi possono anche dimenticarsi qualcosa, adesso invece non si può utilizzare il telefono, si può utilizzare il viva voce come nei mezzi propri che abbiamo. Ma grazie proprio anche all'attenzione degli utenti, gli utenti sono estremamente attenti ai servizi, critici e però posso anche dire che quando devono lodare, lodano, perché ci sono moltissime persone che mandano mail alla presidenza dicendo grazie per il servizio che avete fatto, la gentilezza del vostro autista, eccetera. Una curiosità, dopo l'iniziativa sulla ratizzazione degli abbonamenti, viste le difficoltà da parte degli utenti a pagare in un'unica botta l'abbonamento, avete aumentato l'utenza? Sì, devo dire, è un'iniziativa che ha avuto un discreto successo. Fra le altre cose vi posso anche dire che ci sono altre aziende del Veneto, di trasporto pubblico, che hanno deciso di fare quello che abbiamo fatto noi. Era un'opportunità. Se mi devo dare una colpa, forse dovevamo comunicare in maniera più intensa questa cosa, verrà fatto il prossimo anno. Anche perché quest'anno siamo partiti di corsa, eccetera. Verrà fatto il prossimo anno. È un'iniziativa comunque che è tutta a favore delle famiglie. Trovare, avere la possibilità di ratizzare l'abbonamento, avendo quindi tutti i benefici di comprare l'abbonamento in un'unica soluzione, senza pagare nessun tipo di interesse, perché, come piace dire a me, se dovevo pagare 600, 600 lo restituisco alla banca. Credo che sia una cosa importante oggi, con un momento di recessione che abbiamo, terribile. Poi, la banca ha voluto mettersi anche nel suo, dando la stessa possibilità anche per l'acquisto di materiale scolastico, tipo tablet, piuttosto che libri, piuttosto che altre cose. E quindi, diciamo che molte famiglie hanno approfittato di questa opportunità. Spero che il prossimo anno ne approfittino al 100%. La comunicazione doveva partire forse un po' prima, però sbagliando si impara. Per concludere, ci saranno delle importanti novità per quest'anno? Avete fatto un importante accordo con una compagnia aerea, per esempio? Abbiamo fatto l'ultimo importante accordo che abbiamo fatto, è stato con Air One. Quello che è incredibile è che prima eravamo noi a cercare i grandi partner stranieri, adesso forse sono loro che cercano noi. È una battuta, ma fatalità, Air One ha cercato lei a TVO, il che ci ha reso molto orgogliosi, devo dire. Poi abbiamo in vista un nuovissimo servizio che è relativo, non ne parlo adesso perché non è ancora partito, quindi non voglio anticipare una conferenza stampa o altre cose che dovremmo fare. Comunque rivolto sempre al mondo del turismo è rivolto in particolar modo ad Austria e Germania, che sono i maggiori fruitori delle nostre spiagge. Anche lì noi abbiamo qualcosa di estremamente importante, fra qualche giorno verrà, non lo posso anticipare, mi dispiace, anche se lei ne ha conoscenza, ma non me lo posso anticipare. Però anche questa è una cosa importante. Questa è la strada che noi vogliamo tracciare. Questa è una strada che chiaramente ci impone di essere sempre ad altissimo livello per quanto riguarda la qualità, perché il partner importante ti abbandona se non gli dai la qualità che cerca. Quindi noi dobbiamo sempre aumentare la sticella della qualità, ma questo in Attivo devo dire non è un problema. È un'azienda che ha al suo interno delle persone estremamente legate all'azienda, sempre disponibili e che seguono la crescita dell'azienda, crescono anche loro assieme all'azienda. E quindi io credo che il fatto che noi poniamo la sticella sempre più alta sulle qualità non sia un grande problema. Ed è un'azienda che va, questo lo dico ai nostri cittadini, è un'azienda che va salvaguardata, un'azienda importante per il territorio. Ricordatevi che un territorio con una mobilità che non funziona è un territorio che non funziona. E quindi dobbiamo continuare, Attivo deve continuare in questa mission di crescita e di attenzione verso il territorio. Benissimo, grazie Presidente Turchetto per il suo intervento, grazie a tutti voi per averci seguito. Noi ci rivediamo la prossima settimana alla stessa ora sulla stessa emittente. Buona serata. Arrivederci.